Sono andato a mangiare in una formaggeria a Brighton l'altro giorno, ho mangiato la grande. Un po' di formaggini, un bicchiere di vino, devo dire, un'esperienza pazzesca. Non il massimo della salutarietà, o come si definisce. Però insomma sai quelle mangiattine che dici, wow. A questo punto qualche giorno dopo sono a casa e noto che hanno il take away disponibile. Per cui io ordino esattamente gli stessi formaggi, uguali, stesso vino, identico, per replicare l'esperienza. Mi arriva tutto il formaggino impostato, mi metto lì a degustarmelo e penso, a porca miseria, devono aver sbagliato il formaggio, il vino, non ha lo stesso sapore. Allora scrivo ai tizi dicendo, no ragazzi, avete mandato una roba diversa. No, è esattamente la stessa. Quindi ho cominciato a ragionare un pochino, sono un tema che mi appassiona questo. Come cambia la percezione di un prodotto? Ho comprato questo libercolo, questo qua, di Charles Spence, Gastrophysics, the new science of eating, che penso si traduca gastrofisica o non lo so. Questa nuova scienza che studia come creare esperienze di pappamento culinario migliori. mette insieme design, neuroscienze, la mamma di Goldrack, di chissà cos'altro cosa. E questo libercolo ha tre lezioni carine per chiunque lavori nel mondo del business. Perché alla fine dei conti, lo sappiamo tutti, sì, il prodotto, ma tutto quello che c'è intorno, fa la differenza. Nel cibo immaginatelo ancora di più, pensate a tutti i ristoranti Michelin, o quelli che lavorano proprio sulla percezione. La lezione numero uno è che a prescindere dal prodotto che vendi, a prescindere dal cibo che te ingurgite, quello che conta è come ti senti. Facciamo un esempio, io sono stato la Fedduck, che è questo ristorante in Inghilterra, un'oretta da qua, fatto da Aston Blumenthal, che è questo cuoco pazzo furioso, che ha scritto anche la prefazione del libro. Ad un certo punto c'è un piatto che ti danno, dove in sostanza è la cameriera che ti imbocca. Ti dice questa pallottola qua, che non sai che cazzo è, la devi mangiare in un botto solo, e tu ti metti lì e lei ti imbocca. Quando sono andato mi è passato abbastanza inosservato il gesto, ma rileggendo sto libro ho capito il perché. È un gesto fatto apposta, per farti sentire in un certo modo, prima ancora che ti ingurgiti la pallozzola. Pensateci, quando è l'ultima volta che siete stati imboccati? Quindi ti riporta quando eri un frugolo, un gagneto, gnè gnè. Come ti senti, impatta clamorosamente la tua percezione del prodotto, proprio come ti sembra il cibo in questo caso. Pensate se andate a mangiare con una o uno che vi spacca la fungia tutto il tempo, o se andate a mangiare con la persona di cui vi siete appena innamorati e siete al settimo cielo. Anche se mangi carbone marinato, in quel caso ti sembra caviale. Seconda lezione importante è che la percezione del cibo, e quindi qualunque prodotto o servizio, dipende dall'atmosfera. Questa è abbastanza intuitiva, ma pensate, guardate in un ristorante di alto livello, c'è un'attenzione maniacale a tutto, e non è solo un'attenzione estetica, è un'attenzione per alterare, migliorare in quel caso, la percezione della tua pappata. Come è fatto il piatto? È rettangolare, è rotondo, è strano. C'è un esperimento carino che cita questo libro mettendo un pudding, un dessert, dentro un piatto di colore bianco o dentro un piatto di colore nero. Se lo mangi nel piatto di colore bianco, lo percepisci un po' più dolce rispetto a mangiare nel colore nero, no? Il colore del piatto impatta, la tipologia di posata che usi. Sempre da fedduck, io ho mangiato, ad un certo punto mi hanno dato una specie di forchetta, o un cucchiaio, tutto di peluche, che è una sensazione strana. O i suoni. Pensate a quando vedete la pubblicità in televisione del Magnum. Ce l'avete presente? Che c'è sta tizia con sta boccona, così mi stava subliminare, e che mangia e fa croc, questo rumore, che dici, ma di che hai fatto sto Magnum? È un suono pensato apposta. Così come il suono dell'automobile, di come si chiude, di come si apre, del suono del motore quando la metti in moto, e lo stesso Spence, il prof di questo libro, è quello che ha fatto l'esperimento sulle patatine. Dimostrando, che se tu cambi il suono, di come crocchia la patatina quando mangi, cambi la tua percezione. L'avverti più fresca, più buona, in base solamente al suono. Se te lo amplifico, o te lo faccio sentire di me. E fateci caso, la prossima volta mangiate un pacchetto di patatine, è il casino che fanno. Sia le patatine quando le mangi, sia l'involucro. Fanno un bordello pazzesco. Non è un caso. E ci sono mille esempi, se ci fate caso, su come vado a alterare l'atmosfera. E poi il terzo concetto utile è quello dell'aspettativa. Il tuo prodotto, mi piace o non mi piace, in base all'aspettativa che ho. Sempre fedduck, sempre sempre riportato qui, vissuto sulla mia pelle. Ad un certo punto ti portano un gelato agli scampi. Che è un gusto totalmente antitetico, rispetto a quello che hai nel cervello. E la tua reazione può essere migliore o peggiore, in base al nome che io ti do. Se ti dico, guarda, questo è un gelato, e quando lo mangi sai di scampo, dici, che schifo. Se io ti dico, guarda, è un gelato di scampi, ti creo già un'aspettativa per prepararti a gustare. un prodotto. Come possiamo applicare le lezioni della gastro-physics into our business? I have no idea. Però mi sembra un tema interessante, perché spesso ci concentriamo solo sul prodotto, ma spesso, a differenza, ha vado tutto il resto. il resto. . Grazie a tutti